Odu Italia, a fianco delle imprese italiane. Allora, riprendiamo con gli interventi, partendo con Marco Calcagni, che è l'attuale segretario dell'associazione Odu Italia. Immagino che abbiate già avuto a che fare con lui, soprattutto nella fase di invio slide, revisione, risorsa preziosa per l'associazione, così come tutti gli altri componenti del direttivo. Marcello, Stefano, Lorenzo, gruppo storico Elvis, che non vedo, eccolo là, mister sponsor. Un applauso al direttivo. E il nostro tesoriere Piero Cecchi, che tra l'altro è cofondatore insieme a Davide Corio. Una bella squadra. Va bene, un applauso a Marco, buon lavoro. Eccomi qua, mi presento, sono Marco Calcagni, segretario di Odu Italia. La mia azienda è Dinamiche Aziendali, siamo di Napoli. Lavoriamo con Odu da quando si chiama Odu, ovvero dalla versione 8. Prima era OpenIRP e quindi noi stiamo da un bel po' a gestire Odu, ad impazzire dietro Odu e a gioire delle cose belle che Odu ci fa fare, perché questo è un qualcosa che comunque deriva dal fatto che esiste un ecosistema o una community proprio di Odu. Oggi voglio parlare, faccio un talk di tipo funzionale, perché voglio parlare di due cose che sono i mandati di pagamenti e delle ricevute bancarie o meglio RIBA, proprio per far conoscere un pochino tutti questi moduli che possono essere di interesse. I mandati di pagamento, che cosa sono? Sono usati sia per il ciclo attivo che per il ciclo passivo, sono più facili da intendere nel ciclo passivo perché uno intende qualcosa per pagare i fornitori, per avere un elenco di bonifici che devono essere fatti o quant'altro. Però vengono usati anche come i moduli per gli SDD, ovvero gli SDD sarebbero i SEPA Direct Payment, quindi quello che vanno a sostituire i vecchi RID bancari, quindi anche nel ciclo attivo non li possiamo andare a usare. I moduli ovviamente sono di OCA o di OCA, a detta l'italiana, e sono tutti quanti disponibili all'interno del repository di OCA. Qui ho scritto, riportato una breve definizione che viene data, che ho trovato sul sito dell'Unicredit, e quindi che spiega che cosa è un SDD, che può essere di due tipi, quello preautorizzato e quello non autorizzato, e inoltre può essere quella che può essere revocato o meno, a seconda dei casi. Siccome questi modelli sono modelli SEPA, seguono gli standard europei. Qui è dove andiamo a trovare i nostri repo, e quindi sono tutti quanti di OCA come Bank Payment. Andiamo a vedere un pochino come funzionano, cosa bisogna fare per poterli attivare. Abbiamo due funzioni che sono i modi di pagamento e i metodi di pagamento. Nei metodi di pagamento vengono precaricati nel momento in cui si installa i moduli, e quindi a seconda dello standard che si vuole utilizzare, come per esempio in questo caso PEN 010103, eccetera, secondo gli standard che vengono utilizzati dalle banche, il sistema mi mette a disposizione dei modelli che verranno utilizzati per poi generare il file in output che verrà inviato al sistema di home banking. Su questo ovviamente si possono fare anche nuovi moduli. Per esempio su questo mi piacerebbe innestare anche il modulo delle riba per generare i file da mandare alle riba in banca, ed è forse un'evoluzione che potremmo avere in futuro. Comunque viene tutto quanto generato in queste configurazioni. E quindi qua, sempre nei modi di pagamento, andiamo poi a definire, per esempio questo, seppa pagamento a fornitore, andiamo a definire qual è il metodo di pagamento che deve essere utilizzato, e andiamo a fare vari settaggi per come li vogliamo andare a utilizzare. Quindi questa parte qua è qualcosa che io metto proprio nel fare il setup, quindi ogni banca, ogni tipologia di mandato di pagamento avrà una sua configurazione, deve avere una sua configurazione. Questa è l'altra parte che viene un pochino più in sotto, in cui vado a definire quando e come devo estrarre i dati dall'interno del mio database, ok? Tra le varie registrazioni. Quindi, poi sul partner che cosa vengono aggiunti? Questi due campi, uno, qual è il metodo di pagamento che deve essere utilizzato e qual è il metodo di pagamento, nel caso il fornitore o il cliente, perché ovviamente io potrei avere due metodi che sono separati e sono diversi tra i loro. In una fattura, quindi un documento contabile, noi avremo che vengono aggiunti il metodo di pagamento che deve essere utilizzato più la banca del beneficiario, quindi già io in fase di emissione di una fattura o caricamento di una fattura, ricevo o evidenza di questi dati. Adesso andiamo nella parte, diciamo, più operativa e quindi quando dobbiamo creare un mandato di pagamento, che cosa avremo? Andiamo a creare un nuovo mandato di pagamento. Nel nuovo mandato di pagamento possiamo aggiungere le righe manualmente. Quindi facendo qua aggiungi righe andiamo ad aggiungere la fattura che dovremo andare a pagare, oppure possiamo scegliere di aggiungerlo in maniera automatica. Quando scegliamo di aggiungerlo in maniera automatica, nella slide che vedremo poi, il sistema mi fa comparire questo wizard, quindi questa maschera di selezione, in cui io posso andargli a dire, con questo tasto e con questi filtri che vengono impostati qua, vanno a recuperare tutte le righe per cui io dovrei poter remettere un mandato di pagamento. In questo caso ho tirato fuori due righe che sono da dover pagare e vado a creare il mandato di pagamento. Fatto questo è come se avessi fatto una distinta di pagamento, quindi ho raggruppato tutto quanto insieme una serie di informazioni che mi serviranno poi per poter mandare avanti il nostro pagamento. Ovviamente queste slide sono disponibili, verranno date disponibili, quindi queste informazioni le ritroverete anche successivamente. Una volta che ho generato il mandato di pagamento avrà il suo flusso, workflow di approvazione, di avanzamento e quant'altro, fino ad arrivare a generare un file che poi deve essere inviato fatta alla banca. Fino in questo momento qua, quindi fino a quando io ho generato il file, le fatture rimangono non pagate, quindi non è uno stato, io ho solo preparato tutto quanto il lavoro. Nel momento in cui mando il file in banca, la banca mi accetta il file, non ci sono errori eccetera e quindi posso andare avanti, in quel momento io andrò a dire che questo mandato di pagamento ha avuto esito positivo e quindi in tal caso il sistema mi va a chiudere e a riconciliare con il pagamento che ho fatto tutte le fatture che avevo incluso nell'interno del mandato di pagamento. Se ho sbagliato qualcosa non è un problema, faccio a nulla, rimposto in bozza e inizio un'altra volta a fare lo stesso giro, quindi posso generare e correggere i dati più volte nel corso della mia elaborazione. Dico questo perché nel momento in cui noi iniziamo con un cliente o con un'azienda a fare questo qua usciranno sempre dei piccoli errori che devono essere corretti di volta in volta, fin quando poi non va a regime tutto il processo. Altra cosa che diciamo a noi è capitata molto spesso, di avere un direttore finanziario che fa pianificazione delle finanze che vuole sapere che cosa deve pagare, quanto deve pagare e vuole avere una lista di tutto ciò che deve essere pagato. In questo caso qua non va bene tirar fuori dalla tri di Odu l'elenco delle fatture non pagate perché potrebbe esserci anche qualcosa che io non voglio pagare alla scadenza che il fornitore mi ha dato, c'è qualcosa che voglio pagare in modalità diversa, c'è qualcosa che voglio posticipare nei pagamenti eccetera, quindi in questo caso io posso ottenere un report di quello che intendo andare a pagare e quindi poi farmelo autorizzare, far firmare e far accettare dalla direzione aziendale. Come dicevo prima, quello che noi abbiamo visto, questo flusso quindi che è abbastanza intuitivo per quanto riguarda i fornitori, è esattamente uguale anche per i clienti. Negli SDD, quindi nel momento in cui vado a emettere un addebito diretto in banca per i miei clienti, in tal caso io ho bisogno comunque di un'autorizzazione del mandato che vado a fare che viene gestita tranquillamente nel flusso degli SDD. Va scelto il modulo che soddisfa le esigenze e comunque il contratto che uno ha aziendalmente nei confronti della banca. se avete, vabbè le domande le facciamo tutte quante dopo. Adesso voglio parlare delle riba perché le riba è qualcosa che si avvicina concettualmente al tool che abbiamo visto prima delle mandate di pagamento. Faccio un po' di storia, guardate che questo modulo è stato fatto nel 2012 da Andrea Cometa, quindi qualsiasi cosa è colpa del presidente ed è lui che lo ha fatto. Le riba per me sono un incubo perché quando lavoriamo con i clienti non ci sono due clienti che lavorano e trattano le riba allo stesso modo, il che significa che non molto spesso dobbiamo mettere mano al codice, quindi mettete sempre in conto questa cosa. Questo perché? Perché ognuno ha il suo modo di gestire le riba, le banche ci mettono il loro perché c'è una banca che lavora in un modo, un'altra banca lavora in maniera diversa, chi ti anticipa tutti i soldi, chi te li anticipa alla fine, chi te ne dà parte all'inizio e parte alla fine, chi te li dà tutti e poi torna gli insoluti e quindi diciamo è un modo abbastanza variopinto di gestire la cosa. Con le riba noi riusciamo a tenere sotto controllo quelle che sono le emissioni dei documenti, riusciamo a preparare una distinta, a mandare la distinta, a segnarci ciò che risulta è stato ritirato come riba oppure eventualmente l'insoluto. Ovviamente anche in questo caso qua i repository sono quelli di OCA e quindi in questo caso di L10 Italy. Noi abbiamo il modulo di ricevute bancarie, poi per chi utilizza O2 Enterprise c'è il modulo ricevute bancarie Enterprise. Il modulo ricevute Enterprise che cosa fa? Non fa nient'altro che spostare il nome e il menu dal menu fatturazione al menu contabilità perché abbiamo due menu diversi, quindi giusto per essere in linea e non avere un proliferare di menu. Per le riba abbiamo configurazione di due possibili alternative, salvo buon fine e al dopo incasso. Al dopo incasso è molto semplice perché ho un flusso che è estremamente semplice, genera soltanto il file da mandare in banca. Un po' più complesso è quello nella gestione del salvo buon fine. Configurazione che è la parte più complicata dell'utilizzo delle riba a mio avviso, dove bisogna dialogare con il cliente e di nuovo ogni banca ha una configurazione leggermente diversa. Quindi nel menu configurazione, configurazione riba, andiamo a creare il nostro modello che verrà utilizzato. In questo caso abbiamo, salvo buon fine, andiamo a metterci la descrizione, la tipologia al conto bancario, più i vari fasi del workflow delle riba che sono quello di accettazione e accreditamento, insoluta ed eventuale pagamento perché Odu per ogni fase che andiamo ad incontrare che è elencata qua, fa delle registrazioni contabili che ci aiutano, ci chiudono il cliente, lo riaprono, fanno la registrazione bancaria e quant'altro. Ovviamente vanno creati tanti conti del piano dei conti in funzione di come l'azienda vuole gestire le riba. Quindi in questo caso qua noi consigliamo di avere un conto per il portafoglio riba dei costi bancari per quanto riguarda gli addebiti che andiamo a fare per le riba stesse. Il modo più semplice al dopo incasso, perché io genero un file e ho finito là, non ho nessun automatismo, non ho nulla che ci viene dopo che ci dà una mano, quindi è il caso più semplice. Che però dei miei clienti nessuno lo utilizza ovviamente. Ok, nella parte di fatturazione, sempre nelle modalità di pagamento che noi abbiamo, dobbiamo andare a gestire questi due flag. Uno, se quella modalità di pagamento è una riba, in tal caso Odu me lo metterà nell'elenco delle riba che posso andare a demettere e inoltre devo andare a dire se ci sono delle spese per l'incasso delle riba. Nella parte di configurazione generale della contabilità devo andare a indicare qual è il prodotto che deve essere usato come schema per tutte le registrazioni che hanno a che fare con le spese di incasso. Ok? E quindi ci andremo a mettere a linkare se ho IVA o meno, qual è il conto che devo andare a utilizzare e quindi inserisco tutte queste informazioni proprio nel prodotto stesso. Altra particolarità, nel momento in cui ho una fattura che imbozza, il sistema mi porta la fattura regolarmente. Nel momento in cui io la vado a validare mi va ad aggiungere le spese incasso riba e quindi mi fa vedere che ci sono delle spese. Su questo comportamento personalmente non sono molto d'accordo, quindi abbiamo fatto anche un APR per far raggiungere le spese già in fase di bozza perché in tal caso io posso andarle anche a modificare nel caso in cui le debba modificare. Ok? In quest'altro caso invece io se devo fare una modifica non riesco a farla perché la fattura quando è confermata non la posso più modificare, quindi sono un pochino vincolato su questo. Però dipende da diciamo si può aggiungere o meno questa funzionalità. Quindi operativamente che cosa faccio dal menu delle riba? Vado nell'emissione delle riba e vedrò l'elenco di tutte quante le fatture che possono essere soggette a riba. Ok? Quindi in questo caso le vado a selezionare e dal menu azione gli dico di emettere riba. Facendo in questo modo il sistema mi genera il mandato delle riba, la distinta delle riba. Ok? La distinta delle riba è numerata, quindi progressiva, io la vado a tenere, generalmente se ne mette una mese per banca. niente, la distinta della riba riepiloga tutti quanti i pagamenti che ho dentro, ne posso fare una stampa della distinta delle riba che ha il totale e quindi farla approvare dal mio responsabile finanziario eccetera. Quindi ho questa fase di, c'è questa possibilità. Nel momento in cui la riba io l'ho preparata, l'ho confezionata alla mia distinta, la vado a fare la prima fase che è quella di accettazione. Ok? Quindi il sistema che cosa fa? Mi genera il pagamento delle fatture. Ok? Quindi mi va a riconciliare le mie fatture in base all'emissione della mia distinta della riba. Quindi da questo momento un po' il cliente risulta come se avesse già pagato le fatture. Il sistema ovviamente mi va a generare anche le scritture contabili. Sono andato indietro. Sì. Mi genera le mie registrazioni contabili. Queste registrazioni contabili sono generate in funzione dell'impostazione che noi abbiamo visto all'inizio. Ok? Dopo aver fatto questo io ho l'accreditamento delle riba, cioè il momento in cui la banca mi concede e mi dà dei soldi. In questo caso avrò questa finestra, questo wizard, in cui vado a definire qual è l'importo delle riba, quanto è l'importo della banca mi dà e le eventuali spese che la banca mi addemita. Nel momento in cui gli vado a dire crea, il sistema mi ha creato una registrazione di accredito, quindi mi ha movimentato la banca. Anche in questo caso qua, queste informazioni le prende dalla configurazione che abbiamo fatto all'inizio. Quindi se io ho un conto anticipo riba, che ha un suo castelletto, se me lo accreditano direttamente sul conto corrente, sono tutte cose che dipendono da banca a banca, da azienda a azienda, da come vogliono gestire le riba. A questo punto abbiamo finito il flusso perché abbiamo ricevuto i soldi, dobbiamo nient'altro aspettare che la banca ci dia poi l'esito delle riba. L'esito quindi può essere che il cliente ha ritirato la riba, quindi ci ha pagato, ci ha dato i soldi, oppure la riba può essere ritornata insoluta. E quindi in questo caso qua andiamo a indicare valore voce per voce se c'è un insoluto o meno. Se c'è un insoluto a questo punto il cliente viene riaperto e quindi avrò un'altra volta che mi compare un credito nei confronti del mio cliente. Se invece viene segnata come pagata ha finito il flusso di vita della riba che sono andato a remettere andando a fare una scrittura contabile che mi va a chiudere il cerchio del mio conto anticipo che ho utilizzato per le riba. Oggi è un giorno particolare quindi aspettiamo la partita di oggi e vediamo. Vabbè, te la concedo solo perché sei il segretario. Anche perché capita una volta ogni 50 anni. Va bene, allora, perché hai ricordato questa cosa delle riba? Facevo di tutto per nascondere ormai, non scrivo più una riga di codici apposta, hai ricordato questo fatto qua. Ma perché è colpa tua se io soffro ogni giorno? È che è sempre colpa mia. Allora, arrivano le domande. È prevista un'integrazione diretta con le API delle banche? No, al momento no. I moduli Enterprise di U2 hanno già un loro collegamento con le banche con cui si scaricano i flussi da parte delle banche e si vanno a fare tutte le attività di riconciliazione e quant'altro. Sinceramente nessuno dei nostri clienti ci ha mai chiesto di avere un'integrazione diretta con le API, con le API delle banche, soprattutto perché tutto questo flusso che noi abbiamo visto può essere utilizzato dalle persone che hanno i permessi per poter agire in contabilità. Generalmente chi può e ha i permessi per comunicare con le banche, preferiamo che sia nell'home banking della banca perché immaginate che mando un flusso di incasso, di pagamento con dei dati sbagliati e cose del genere c'è una responsabilità. Quindi diciamo generalmente tutti quanti preferiscono estrarre un file, caricarlo sull'home banking e mandarlo. Ovviamente, siccome lo spirito con cui noi facciamo questo mestiere è sempre costruttivo e di condivisione, chiunque vuole scrivere un moduletto che aggiunge l'API per migliorare il modulo dell'API può farlo e può passare attraverso la revisione, attraverso il nostro GitHub e la nostra organizzazione che ha ormai aggiunto un buon livello di qualità nei moduli che sono pubblicati. Tra l'altro proprio il modulo dell'API è un buon esempio, in realtà diciamo nel 2012 ho scritto un modulo embrionale, poi dopo è stato esteso da Piero, da Davide, da Lorenzo, insomma è cresciuto perché di fatto c'è un lavoro condiviso. Altra domanda, è possibile eliminare una distinta accettata e accreditata? Sì, credo che sì. Dovrebbe essere fattibile. Va bene, se non ci sono altre domande. Io ringrazio il nostro segretario. Io ho un'altra cosa da dire, visto che c'è rimasto un po' di tempo, giusto? Nella presentazione che ha fatto prima, la prima che abbiamo visto per il bilancio di Allegretti, giusto? Sì. Esatto. Il modulo del precedente che faceva il bilancio in quarta direttiva è un modulo che ho fatto io e sono pienamente d'accordo con lui che quel modulo ha una serie di problemi che li ha elencati tutti e quindi vi invito tutti quanti di andare a provare il modulo che è nuovo, che è fatto molto bene e soprattutto di interagire all'interno di GitHub andando a fare le prove, andando a scrivere che è stato provato, che è stato accettato e che viene in uso. In questo modo può essere mergiato all'interno della community ed essere utilizzato da tutti quanti. perché il modulo che attualmente è disponibile e che utilizza il Mistreport è stato qualcosa per tamponare una mancanza che avevamo all'interno di U2 Italia e che dovevamo gestire. Quel modulo non è perfetto, anzi c'è una serie di difetti, quindi io invito tutti quanti e sono il primo a caldeggiare di utilizzare quel modulo, di provarlo, metterci dei commenti positivi in modo che il team della community che segue lo sviluppo possa andare avanti. Inoltre, l'ultima cosa che vi dico, per i tecnici frequentate il canale Discord che noi abbiamo. Sì, sì. E il venerdì mattina noi facciamo quasi sempre una riunione di mezz'ora, dalle 9 e mezza alle 10, c'è su Discord in cui parliamo di come approvare i moduli, di come mandarli avanti, eccetera. E quindi chiunque viene, cioè ci fa piacere, più ne siamo meglio è. Sì, sul portale di U2 Italia.org c'è una sezione in alto, come contribuire. E lì ci sono i vari link, i reposti, il canale Discord, per cui vi invito a partecipare. Ultima domanda e poi chiudiamo. Per quanto riguarda i mandati SEDA, non SEPA, esistono dei moduli che lo gestiscono? No, non che io sappia. Però sulla base del banking che abbiamo visto prima, si può costruire l'integrazione che manda avanti, che predispone il file da poter essere poi scambiato. Perché è un'architettura che è già fatta, non è fatta soltanto la parte che va a integrare quello che manca. Ok. Grazie Marco. Grazie a te. O2 Italia, a fianco delle imprese italiane.